Una web tv interamente realizzata dai ragazzi, che coinvolgerà alunni degli istituti di ogni ordine e grado della città, ma anche giovani che la scuola l'hanno abbandonata troppo presto. Il progetto che li ha comune è promosso dall'Associazione Atelier Multimediale di Lello Masucci, da oltre 13 anni impegnate in programmi di recupero sociale che offrono opportunità di formazione nel settore dello spettacolo e delle nuove forme di comunicazione. Sicuramente per la scuola da cui vengo Scampia aiuta molto i ragazzi ad allontanarsi dalla strada, oltre a essere un progetto inoltre di educazione sia all'arte che nella vita. Una web tv che andrà anche sui normali schermi televisivi, ma partecipativa, in modo che i ragazzi possano partecipare, ma non solo i ragazzi, ma anche i professori, anche i genitori, per creare e formare effettivamente una democrazia partecipativa. La web tv vedrà le 10 scuole coinvolte alle prese con una prima fase teorica, un laboratorio di apprendimento delle principali tecniche di produzione audiovisiva, ed avrà un palinsesto completamente realizzato dai ragazzi e fruibile su internet all'indirizzo www.arttube.it. È un modo ancora una volta per fare della scuola il luogo educante per eccellenza, educante non soltanto rispetto agli allievi che ci stanno dentro, ma rispetto alla cittadinanza, perché i prodotti dei ragazzi verranno poi fruiti da tutti gli attori, da tutti i soggetti del territorio.